Qual è la malattia rara che voi oggi potete ascrivere come ha successo nel vostro istituto e con che terapia la state curando? Noi ci occupiamo da tempo di sindrome emolitico-uremica. Ogni malattia rara ha questi nomi molto strani, molto complessi, ma sindrome emolitico-uremica sostanzialmente vuol dire alterazione dell'emostasi, quindi del sistema di coagulazione del sangue, e uremia, cioè affezione del rene, quindi il rene che funziona non bene. E' una patologia sostanzialmente che colpisce bambini, ce ne sono le varie forme, sicuramente avete sentito parlare della forma che recentemente ha colpito moltissimi bambini in Germania, dal batterio killer. Ecco, questa è la forma dovuta proprio a una infezione batterica, però esiste una forma familiare più rara di cui noi da tempo ci occupiamo. Ci occupiamo proprio grazie al registro che abbiamo stabilito e quindi abbiamo avuto la possibilità di avere delle famiglie di bambini, famiglie un po' da tutte le parti del mondo. La cosa che avevamo studiato già da tanto tempo era che questi bambini venivano curati da infusione di plasma, quindi come se a loro mancasse un fattore nel plasma che gli veniva restituito dopo l'infusione. Abbiamo cercato vari fattori nell'ambito della coagulazione che fossero deficitari, ma non avevamo trovato mai un'alterazione effettiva, a parte quando i bambini avevano una fase acuta della malattia, in cui avevano un consumo di piastrine perché le loro piastrine si aggregavano, formavano dei piccoli trombi nella microcircolazione ed era questa formazione di trombi che sia a livello renale che a livello del cervello provocavano proprio un'alterazione della emodinamica, quindi della circolazione del sangue e in alcuni casi davano deficit cerebrali, in quasi tutti i casi invece perdita di funzione del rene al punto che i bambini dovevano andare in dialisi. Continuando a ricercare in laboratorio quali erano i fattori alterati, abbiamo visto che esisteva un'alterazione al carico di un fattore, di un sistema che è molto complesso, che è il sistema del complemento, che è il sistema che ci difende dai batteri e dai virus e che era sempre stato studiato in quest'ottica, fino a che a un certo punto, grazie a studi di altri gruppi e dei nostri, si è visto che il sistema del complemento ha una grande interazione con il sistema della coagulazione e naturalmente questo è proprio anche un esempio di come studiare le malattie rare vi dia un'idea di studiare meglio il nostro corpo e anche l'interazione tra i vari sistemi del nostro corpo. Quindi noi abbiamo cominciato a studiare il sistema del complemento e abbiamo visto che questi bambini avevano un'attivazione di questo sistema del complemento che si accumulava nel rene e che quindi dava un'alterazione appunto della funzionalità renale, tale per cui il rene continuava a deteriorarsi e la funzione veniva persa. Allora siamo andati a vedere quali erano i geni coinvolti e abbiamo visto che questo sistema molto complesso ha dei geni per fattori, ma dei geni anche per degli inibitori, cioè il nostro corpo è in grado di attivare questo sistema quando ci sono dei batteri e dei virus o c'è un insulto, ma è anche capace di modulare questo sistema, cioè di fare in modo che questo sistema a un certo punto si spenga, perché altrimenti noi avremmo ovviamente sempre un'attivazione esagerata e quindi danno agli organi. In questi bambini mancava proprio il sistema di freno, questo sistema che è un fattore di inibizione che si chiama fattore H, è uno dei fattori che impedisce questa attivazione massiva e c'era appunto un'alterazione genica che era comune a tutti i bambini che abbiamo studiato e quindi c'era un deficit di fattore H. Questo ha portato poi all'inizio, siccome il fattore H è prodotto dal fegato, a una terapia chirurgica, perché abbiamo sottoposto i bambini a doppio trapianto, cioè perdevano il rene, ma se il rene veniva sostituito la malattia recidivava. Perché? Perché il fattore H viene prodotto dal fegato. Quindi c'era bisogno di un doppio trapianto e quindi i bambini erano sottoposti a doppianto di fegato e a trappianto di rene. Questo è una possibilità. Però naturalmente questo non ci ha entusiasmato perché comunque vuol dire che i bambini poi devono prendere immunosorpressori per tutta la vita, quindi è una soluzione temporanea. Allora abbiamo cercato di entusiasmare l'industria a produrre fattore H ed effettivamente adesso attraverso il DNA ricombinante, la tecnica di DNA ricombinante, probabilmente riusciremo ad avere una quantità congrua di fattore H. Ma quello che però abbiamo visto è che alla fine tutto il sistema del complemento va a finire in un fattore che si chiama C5, che è appunto il fattore 5 del complemento. E allora la possibilità di curare questi bambini forse era di trovare un anticorpo contro il C5. Infatti questo anticorpo è stato trovato. Adesso l'azienda che lo produce effettivamente ha curato dei bambini efficacemente perché rimuovendo questo C5 naturalmente i bambini non hanno più l'accumulo e non hanno più il danno. Però c'è lo stesso un grande problema, cioè ogni bambino dovrebbe spendere 300.000 euro all'anno per la sua cura. Voi capite bene che né un privato né tantomeno un sistema sanitario nazionale può farsi carico di quello. Allora qual è stata la nostra idea successiva? Dobbiamo trovare un'indicazione più generale. E adesso la stiamo trovando. Probabilmente pazienti che sono predisposti ad eventi cardiovascolari hanno un'alterazione del complemento, hanno un'alterazione del fattore H che è molto simile a quella dei pazienti. Quindi studiando, avendo la possibilità di studiare tanti pazienti a rischio di malattie cardiovascolari, probabilmente per questo farmaco si aprirà una prospettiva di mercato più grande e quindi probabilmente anche il costo poi verrà ripartito. E questo è anche un po' l'esercizio che si fa, come dicevo prima. Noi studiamo anche delle alterazioni, non solo a carico di pochi bambini o pochi individui, ma alterazioni che possono invece predisporre delle malattie più comuni. Grazie, grazie Ariela. Grazie a tutti.